Gentili telespettatori, buona giornata. Non lo dice in pubblico Meloni, ma l'ipotesi come il Ministero degli Interni per Salvini, quindi no al Ministero dell'Interno per Salvini o la Presidenza del Senato per Berlusconi, non vengono considerate. Agli alleati si può concedere la Presidenza a Palazzo Madame, alla Camera si vedrà, ma tutto dovrà essere serio, niente buffonate, niente buffoni e niente pagliacciate, niente teatro. A partire dal di castello dell'economia che si pensa di affidare a un tecnico, magari non a panetta per non scoprire il versante Banca d'Italia e Banca Centrale Europea, anche perché la situazione è difficilissima. Quindi adesso a giochi fatti perché la Meloni chiaramente ha detto i risultati sono chiari, come dire io ho preso il 26, tu hai preso l'8, Salvini, Berlusconi ha preso l'8. Siete ormai dei piccoli partiti, la Lega Nazionale non esiste più, Salvini è a capo di un partitello dall'8%, che addirittura stanno chiedendo le sue dimissioni, le dimissioni di Salvini che non vuole dare perché lui si sente sempre il capitano coraggioso di chissà che cosa. E così la Meloni è stata chiara, non pubblicamente, ma trapela che Salvini al Ministero degli Interni no. Perché no? Intanto Berlusconi, Presidente del Senato, no. C'è bisogno di serietà, non di persone che vanno a raccontare barzellette come Presidente del Senato o a fare teatro, fare teatrini, a fare show. Niente show e niente buffonate. Salvini al Ministero degli Interni, per quanto abbia lavorato bene, ci vuole un cambio di passo al Ministero degli Interni. Non si può cominciare fra una settimana di nuovo con i magistrati che salgono sulle ONG, tutti scendete tutti, i tribunali con l'autorizzazione a procedere, Salvini ai procedere. Cioè diventerebbe il governo di Salvini e le ONG. Non va bene, non va bene. Va trovata un'altra soluzione, va messa un'altra persona al Ministero degli Interni, va fatto il blocco navale concordato con l'Unione Europea, con i paesi costieri dell'Africa, per prendere il problema alla radice. Niente show, niente tribunali, niente panzanate, la nave arriva in diretta, cosa farà adesso, vira a destra, vira a sinistra, arriva la guardia costiera, Salvini che dice non passeranno. No, basta show, serietà, niente politica spettacolarizzata. E poi con l'8% Salvini non può pretendere assolutamente nulla. Se avesse avuto, come diceva lui, minimo il 17%, allora sarebbe stata un'altra storia. Ma oggi, come dice la Meloni, i voti sono assolutamente chiari, quindi cambia assolutamente la distribuzione del potere all'interno del governo. Intanto Fontana dice che Bossi e storia del paese sia senatori a vita. No, non sono assolutamente d'accordo. Chi ha disprezzato l'Italia e chi vive al centro-sud non merita di essere a Roma come senatore a vita. Lasciatelo lì a gemonio, a casa sua, a fare quello che vuole, ma una persona che ha disprezzato gran parte dell'Italia, ce lo ricordiamo benissimo, altro che senatore a vita, che stia a casa sua a vita, non senatore a vita. Ma Fontana dice che Bossi è la storia di questo paese, sì, la storia negativa di questo paese. Andiamo avanti, Fontana, la leadership dei Salvini non è a rischio. Beh, questo Fontana è un po' uno che, come si dice, che adula i capi, no? Bossi è la storia, Salvini non si tocca. E vabbè, insomma, quando uno lavora in un'azienda, un'azienda o un partito politico, devi adulare i capi. Se vuoi far carriera o se vuoi continuare a essere stimato dai capi, se contrasti i capi ti buttano fuori. E quindi in politica come nelle aziende vediamo questo tipo di atteggiamento. E poi vediamo che Scinas, che non so chi caspita sia, il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Scinas o Scinas, chi lo sa, l'Italia guadagna se lavora con e non contro l'Europa. Ma fatevi i fattacci vostri in Europa, ma guardatevi alla vostra triste Europa di Bruxelles. Intanto, Gentiloni, quello che cantava Bella Ciao in Europa per del PD, per intenderci, fondamentale che il prossimo governo onori impegni del PNRR. Bravo, Gentiloni, ci volevi tu del PD a dirlo. Pensa al 18% che avete preso, vergognatevi al posto di parlare degli altri, parlate di voi stessi. L'Unione europea, governo uscente, può presentare un piano di bilancio provvisorio. Beh, è quello che probabilmente ha chiesto la Meloni a Draghi, di presentare un piano provvisorio per poi continuare su quel piano, perché il governo si riunirà per la prima volta tra 20 giorni. E come fa a fare una finanziaria entronatale e a fare 55 obiettivi del PNRR entronatale? Fra 20 giorni uno entra in ufficio, non sa manco come funziona il telefice. Che devo fare? Lo zero o il nove per la chiamata esterna. E deve presentare una finanziaria e completare 55 obiettivi, che non sanno neanche quali siano. Diciamo che è un po' difficoltoso. Qui c'è bisogno che il governo uscente e Draghi faccia un passaggio di consegne molto, molto dettagliato e preciso, che ovviamente farà attenzione. Draghi lo sta facendo ed è già d'accordo con la Meloni, ne parleremo se facciamo a tempo perché ci sono un sacco di notizie. Ne parleremo in un video successivo, l'accordo tra Meloni e Draghi, proprio per continuare quello che stava facendo il governo, il governo dei migliori, quello che sta uscendo, che è finito, che ancora sta facendo un esercizio provvisorio in attesa che arrivi il prossimo governo. Ancora Mattarella deve fare le consultazioni e che si muova le faccia subito. Che stiamo aspettando oggi? Stai aspettando la minestrina, Mattarella? I spaghetti col pomodoro? Le consultazioni si fanno il giorno dopo. Sveglia Presidente che il tempo passa. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.